abbiamo visto parecchi filmati strani nel tempo video catturati dalle dashcam dalle videocamere di sicurezza e addirittura dalle gopro c'è però un dispositivo non molto diffuso in italia che in pochi anni è riuscito a registrare alcuni dei video più spaventosi di sempre parliamo del videocitofono sempre più persone hanno installato il ring o qualche dispositivo simile e devo ammettere che sarebbe molto utile averne uno immaginate che non siete a casa e una notifica sul cellulare vi dice che qualcuno è alla vostra porta sapete che il dispositivo ha scattato una foto dell'ospite quindi aprite la notifica e vedete questo ok abbiamo già parlato di questa foto scusate ma in maniera molto simile a questo caso oggi vedremo i filmati più spaventosi registrati da quei dispositivi si tratterà di persone in carne ed ossa a volte con brutte intenzioni perciò sarà facile capire che il terrore in questo video sarà reale ora però la smetto di parlare e se in tutto questo tempo non avete preso uno snack e non avete spento le luci dovete rimediare subito perché iniziamo con le cose più spaventose registrate dai videocitofoni il primo video caricato su reddit mostra un'anziana signora che si avvicina cautamente alla porta di casa il proprietario del videocitofono è stato svegliato nel bel mezzo della notte proprio da una notifica e si è trovato questo davanti in mano la signora tiene un coltello sembra confusa e pare che non sappia che cosa sta facendo si ferma e inizia ad ondolare continuamente sul posto puntando l'oggetto verso la porta è chiaramente indecisa sul da farsi sembra quasi che non sappia il motivo per cui si trova lì dopo alcuni momenti di esitazione si avvicina al campanello ma ancora una volta sembra che non sappia se suonare o no esita e infine non riesce a suonarlo ad oggi ancora non è chiaro chi fosse questa donna o perché si trovasse lì ma le persone online sono convinte che si tratti di demenza una povera signora con una condizione mentale deleteria che non sa cosa sta facendo e non sa neanche il perché sicuramente però svegliarsi alla notifica di un video del genere registrato fuori casa deve essere abbastanza inquietante ma questo è solo l'inizio secondo quanto raccontato dalla donna che ha pubblicato il video quest'uomo la spiava regolarmente da mesi è stata addirittura aperta un'indagine per identificarlo ma senza alcun indizio era impossibile farlo con successo fino quando un giorno il video citofono della ragazza ha ripreso questo uomo in bicicletta che si avvicina alla porta quello che dice è inquietante ma non nel senso che intendiamo di solito sentite si scusa per quello che sta facendo è consapevole del fatto che siano azioni disgustose ma non riesce a smettere e il fatto che ne sia consapevole rende il tutto più inquietante e triste chiaramente quest'uomo ha bisogno di un aiuto prima che sia troppo tardi una persona del genere potrebbe commettere atti ben più gravi contro la propria volontà il che deve aver terrorizzato la ragazza ma ancora peggio quest'ultima ha continuato a dire di averlo visto diverse volte vicino al suo appartamento anche dopo la registrazione del video questo video comincia mostrando la proprietaria di casa che fa il bucato ma molto in fretta una strana voce la interrompe sembra essere una voce che chiede aiuto disperatamente ma non è chiaro da dove provenga la donna ha dichiarato che proveniva da dietro di lei quando l'ha sentita più precisamente sembrava provenisse da dietro un muro qualcuno ha pensato che un hacker fosse riuscito a prendere il controllo del video citofono e trasmettere l'inquietante lamento dal dispositivo ma a quanto pare non proveniva affatto da lì chiaramente preoccupata che qualcuno si stesse nascondendo nelle mura della sua casa decide di chiamare la polizia gli agenti hanno poi esaminato l'intera proprietà e non hanno trovato niente e nessuno tutt'oggi non si è riuscito a capire di chi fosse quella voce o da dove provenisse questo video ha ripreso una donna molto agitata che bussa alla porta della casa mentre lo fa continua a guardarsi intorno e dietro di sé come se stesse scappando da qualcosa improvvisamente un uomo si avvicina e la afferra con forza dicendole di tornare nell'auto dopo un po di indagini l'uomo nel video venne identificato si trattava del ventenne victor kucic e venne accusato di racconto la donna stessa però ha dichiarato che si trattava di un malinteso i due si frequentavano e secondo quanto detto da lei quella sera avevano iniziato a litigare nel bel mezzo della discussione la sua ansia si trasformò in un attacco di panico andarono quindi a fare un giro in macchina per calmarsi ma l'attacco peggiorò così lei uscì e chiese aiuto in quella casa perché aveva bisogno di qualcun altro oltre a lui chiese quindi di ritirare le accuse verso il fidanzato ma ancora in tanti credono si sia trattato di qualcosa di molto peggiore rispetto a quanto descritto da lei in effetti sembra descrivere una situazione del tutto diversa in una notte del settembre 2021 un uomo sente bussare alla sua porta intorno alle 3 del mattino prende quindi il suo telefono e controlla il videocitofono per capire chi fosse lì a quell'ora si trova davanti questo video due ragazzi incappucciati e con la mascherina che non sembrano avere buone intenzioni stranamente i due dicono di essere del cpd ovvero il dipartimento di polizia di columbus come avete visto il ragazzo davanti sta chiaramente tenendo in mano un'arma e il proprietario di casa che è loro insaputa sta vedendo tutto parla attraverso il videocitofono per capire cosa stesse succedendo ovviamente non avevano nessun distinto e dato che il proprietario aveva già capito la pericolosità degli individui ha proceduto a chiamare il vero dipartimento di polizia poco dopo i due provano ancora a far aprire la porta al proprietario ma fallendo decidono di andarsene proprio prima che arrivasse la polizia nessuno dei due è stato identificato nonostante le chiare immagini del filmato la cosa assurda è che in un caso come questo l'assenza di un videocitofono potrebbe essere fatale non sappiamo quali fossero le reali intenzioni dei due alcuni credono volessero derubare il proprietario di casa ma c'è la probabilità che avessero in mente cose decisamente molto molto peggiori come bonus ho deciso di includere un video non proprio registrato da un videocitofono ma dalle videocamere di sorveglianza di una casa nel texas il proprietario una mattina del 2016 si è svegliato e ha trovato il cancello del giardino aperto per capire cosa fosse successo guarda le registrazioni delle sue varie videocamere di sorveglianza ecco cosa avevano ripreso un uomo vestito da clown con un collo in mano non solo prova ad entrare dalla porta principale ma fa il giro dell'intera casa insistentemente per trovare una porta aperta e entrare prova ad aprire ogni porta possibile quali possono essere le intenzioni di un individuo del genere vi ricordo che nel 2016 negli stati uniti era diventata diffusa la clown mania alcune persone vestite da clown andavano in giro a spaventare la gente per divertimento ma tra tutti questi clown sicuramente qualcuno ne ha approfittato per commettere crimini reali travestendosi così e non solo per spaventare è chiaro che la persona di questo caso stesse provando a irrompere in quella casa in tutti i modi purtroppo il malintenzionato non venne mai identificato lasciando al proprietario di casa solo questo inquietante filmato e la paura che qualche clown torni a fargli visita i videocitofoni hanno ripreso queste spaventose vicende nel giro di pochissimi anni ho sinceramente paura di scoprire che cos'altro potranno registrare negli anni a venire se invece voi siete curiosi fatemelo sapere con un commento in questo modo mi terrò aggiornato su nuovi video del genere e cercherò di mostrarvi il prima possibile detto questo ragazzi anche oggi grazie per la visione io spero che questi filmati vi siano piaciuti e vi abbiano inquietati e come solito vi do appuntamento al prossimo spaventoso video grazie